Musica Scissione del PD, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato alla guida dei Renziani esce dal partito anche la ex segretaria regionale del PD Antonella Grimm Ettore Rosato è un campione di trasformismo, l'attacco del consigliere regionale del PD russo che resta nel partito assieme alla Serracchiani a Cosolini Camion si ribalta sull'autostrada 4, chiuso per ore il tratto fra Sastino di Livenza e Sandonà traffico in tilta e sino a 5 km di coda Spray urticante sull'autobus a Trieste, una testimonia oculare racconta i fatti ai microfoni di Telequattro e rivela che è stata una donna Serena Pellegrino, sinistra italiana, oggi a sveglia estate sulla questione ferriera bonifiche, unica soluzione per tutelare lavoro e salute Il Comune ha reso noti i risultati della consultazione non solo online sulla nuova piazza Sant'Antonio sia più verde e più vivibile, chiedono i triestini Vanno ritrovati gli equilibri smarriti, così il centrocampista della Triestina Maracchia al Caffè dello Sport, in bilico, la pacchina di Pavanel deve vincere a Verona Buonasera e bentrovati, una nuova edizione del telegiornale di Telequattro in primo piano la politica, in particolare la scissione del Partito Democratico Oltre al Vice Presidente della Camera, il deputato triestino Ettore Rosato anche la consigliera comunale del Partito Democratico, Antonella Grimm esce dal partito e segue la svolta renziana Sentiamo i dettagli nel servizio d'apertura Per l'ennesima volta Trieste fa parte a pieno titolo di una trasformazione politica a livello nazionale Il deputato triestino e Vice Presidente della Camera, Ettore Rosato è infatti in prima linea nella scissione del PD e lui ad avere in mano i comitati di azione civica voluti da Renzi per preparare la partita del nuovo movimento in vista della Leopolda Oltre a Rosato, che è stato in precedenza capogruppo alla Camera del PD Sottosegretario agli interni e prima ancora candidato a sindaco a Trieste sconfitto sul filo di lana da Di Piazza in bocca all'uscita dal PD anche la sua scudiera locale Antonella Grimm, consigliera comunale e soprattutto ex segretaria regionale del partito Inera Serracchiani Perché credo che la risposta che stiamo dando in questi anni alla globalizzazione, al grande sconvolgimento politico, economico e sociale di tutto l'Occidente non possa essere un sovranismo cattivo ma non possa neanche essere il tentativo di protezione passiva ritornando a vecchie ricette del passato e che quindi ci voglia una terza via un accompagnamento coraggioso e riformista alle grandi sfide che ci attendono è un percorso che ho maturato sicuramente nell'ultimo anno chiaramente non è una scelta facile ci sono pezzi di vita, compagni, amicizie con i quali ho condiviso veramente uno dei periodi più intensi della mia esperienza ma c'è anche tanta storia secondo me di futuro da provare a scrivere Restano invece allineati all'interno del contenitore DEM oltre alla Serracchiani anche tutti gli altri big triestini fra cui consiglieri regionali Russo e Cosolini ed è bene sottolineare che proprio l'ex senatore e la ex presidente almeno questa volta sono dalla stessa parte della barricata ma come si riverbererà tutto questo sui prossimi appuntamenti politici a partire dalle amministrative del 2021? Intanto dobbiamo assolutamente confrontarci su questi primi passi e poi c'è da costruire una nuova proposta politica insieme nel campo del centro-sinistra per battere quel sovranismo cattivo e per cercare anche di fare scelte più coraggiose Il consigliere regionale del PD Francesco Russo definisce una scelta incomprensibile quella di Matteo Renzi nell'aver voluto creare una scissione interna nel PD hanno prevalso, ha detto, logiche egoistiche che non fanno bene al partito ma nemmeno all'elettorato Sentiamo le sue parole nel servizio del nostro Bernardo Gulotta Io credo sia un errore un segno di debolezza da parte di Renzi è onestamente qualcosa di incomprensibile Egoismi, segni di debolezza, azioni incomprensibili Il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia Francesco Russo commenta così lo strappo di Matteo Renzi con il Partito Democratico Un gesto che allontana i cittadini dalla credibilità politica in un momento cruciale, dice Russo quello in cui, a poco dalla formazione del governo Conte Bis il PD avrebbe avuto bisogno di unità di parlare di una coralità necessaria per il buon governo a fronte degli individualismi È una scelta questa che dimostra ancora una volta o rischia di dimostrare che la politica è davvero lontana dagli interessi della gente normale Nel momento in cui parte un governo credo che gli elettori anche non del centro-sinistra anche non del 5 Stelle in questo momento stanno a vedere se questo governo è in grado di cambiare le cose di cambiare passo e di rispondere alle esigenze dei cittadini Questa scelta dimostra ancora una volta che sono gli interessi personali i piccoli giochini, gli egoismi politici dei singoli magari la ricerca di una ricandidatura sono cose che allontanano e danno l'idea che soltanto i più furbi quelli che magari cambiano l'idea hanno sempre ragione Secondo Francesco Russo non dovrebbero manifestarsi conseguenze all'interno degli equilibri politici del partito a livello locale nonostante non sia un segreto che lo stesso PD sia composto da correnti diverse chi filo Zingaretti chi invece più legato alla figura di Renzi Ciò che Russo infine commenta è il comportamento di uno degli esponenti triestini più in vista all'interno del partito ovvero Ettore Rosato Certamente mi dispiace che una persona che nasce da questo territorio come Ettore Rosato sia oggi il campione di questo trasformismo insomma d'altra parte lui negli ultimi anni ha cambiato idea parecchie volte ma vedere che magari per un piccolo tornaconto personale un'eventuale ricandidatura quegli egoismi che si leggono anche in Renzi quella voglia di essere protagonisti quando invece bisogna riconoscere a Zingaretti che aveva costruito una dimensione del noi nel partito democratico ecco sembra qualcuno non voglia rassegnarsi a non essere sempre il protagonista La cronaca è un esimo incidente sull'autostrada A4 un mezzo pesante un camion si è ribaltato nel tratto tra Cessalto e Sandonà causando una coda di 5 km in direzione Venezia Autovia Venete ha quindi interdetto al traffico il tratto autostradale tra Sanstino di Levenza e Sandonà due svincoli chiusi istituita l'uscita obbligatoria a Sanstino code dunque l'incidente è finuto poco dopo le 11 polizia stradale sul posto disagia al traffico in entrambe le carreggiate perché è stato danneggiato come avete visto anche parte della serie di New Jersey che si sono dunque ribaltati sulla carreggiata opposta grandi problemi quindi al traffico in ambo le direzioni sulla A4 in giornata torniamo ora invece sul caso dello spray urticante spruzzato a bordo di un autobus a Trieste oggi il nostro Gianluca Paladina ha raccolto la testimonianza di una persona che era proprio a bordo dell'autobus che ci ha spiegato dettagli ancora non emersi nella cronaca di ieri la signora che ha spruzzato lo spray ha aspettato che le porte si aprissero per estrarre lo spray e spruzzarlo e per poi fuggire successivamente la bomboletta di spray e il peperoncino scaricata ieri pomeriggio nell'autobus della linea 10 ha creato il parapiglie tra gli utenti del mezzo sarebbe stata una donna dunque a spruzzare la sostanza urticante con l'intento forse di sedare un litigio la testimone che era presente e che abbiamo sentito ha notato come in quei frangenti concitati dove poco si capiva delle varie dinamiche a causa degli effetti dello spray la gente fosse spaventata io sono salita sulla linea 10 in una fermata di via San Giacomo in Monte dopo pochi minuti pochi secondi anzi in cui ero salita ho sentito che stava avvenendo un piccolo screzzo insomma nella seconda metà del bus in corrispondenza poi della scuola media quando il bus appunto si è fermato questa signora che aveva partecipato diciamo a questo piccolo screzzo ha estratto lo spray del peperoncino e l'ha spruzzato in quantità abbondanti chiaramente dopo pochi secondi gli effetti urticanti si sono fatti sentire per cui nonostante l'autobus fosse ripartito tutti i passeggeri hanno chiesto all'autista se potesse fermarsi perché l'aria era diventata irrespirabile quindi dopo pochi metri il bus si è fermato ha spalancato le porte nel panico generale chiaramente tutti i passeggeri sono scesi a bordo c'erano bambini che piangevano e altre persone che stavano subendo gli effetti urticanti soprattutto due ragazze che scese dal bus sono state tempestivamente assistite dai sanitari del 118 è stata una persona a spruzzare lo spray che si era in compagnia del fratello diceva però questo fratello non è minimamente intervenuto poi quando siamo scesi dal bus hanno chiamato la polizia e dato che due ragazze hanno mostrato proprio dei segni di forte intossicazione si è reso necessario chiamare il 118 che è intervenuto prontamente le due ragazze che hanno subito maggiormente gli effetti non erano minimamente coinvolte in questo screzio erano semplicemente due passeggeri che si sono trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato ecco si è parlato di ferriera anche stamani a sveglia estate ospite Serena Pellegrino la responsabile ambiente di Sinistra Italiana individua nelle bonifiche il terreno per iniziare a ragionare sulle dismissioni garantendo ovviamente i posti di lavoro sentiamo sulla ferriera sappiamo bene ci sono state talmente tante promesse non mantenute perché c'era come dicevo prima una forza enorme di contrasto da parte dei poteri forti che invece potrebbe tranquillamente essere bypassata e risolta in che modo le bonifiche le bonifiche di queste acciaierie sono ormai all'ordine del giorno esistono le tecniche per poter bonificare esistono ed esistono soprattutto nel momento in cui la fabbrica è in funzione perché sappiamo bene che se la fabbrica chiude noi ci ritroveremo all'interno di queste città ma non è solo Trieste è Taranto Piovinus ma ce ne sono tantissime che si troverebbero dei cadaveri in mezzo alla città che nessuno più alla fine bonificherà ecco bisogna obbligare i proprietari di queste di queste fabbriche a iniziare seriamente le bonifiche entro la fine di febbraio prossimo tutti gli autobus di Trieste Trasporti saranno dotati di un monitor di bordo che fornirà informazioni in tempo reale sul servizio in questi giorni sono iniziati i lavori di installazione ci spiega tutto Umberto Bosazzi uscirà domani dall'officina di Trieste Trasporti il primo autobus dotato del nuovo monitor di bordo un sistema per la consultazione di orari e informazioni di servizio i cui lavori di installazione su tutti i 271 autobus della flotta della ex municipalizzata hanno preso il via in questi giorni i monitor bifaciali saranno collocati nella parte centrale degli autobus forniti dalla goriziana Hermetris misurano 12,5 pollici e permettono una visione estremamente nitida da ogni angolazione collegati con la centrale operativa e con il sistema di geolocalizzazione degli autobus quando saranno a regime i monitor trasmetteranno informazioni in tempo reale sul servizio di trasporto pubblico orari coincidenze prossime fermate indicazioni turistiche messaggi pubblicitari come accade su treni e metropolitane durante i mesi necessari a completare l'installazione sui monitor saranno fatti girare filmati e immagini istituzionali dell'azienda dai contapasseggeri alle biglietterie automatiche dall'eti smart all'informatizzazione delle rivendite dalla videosorveglianza ai servizi e chiamata dall'azienda sostiene l'amministratore delegato di trieste trasporti agnello semplice negli ultimi anni non ha mai smesso di investire in tecnologia con l'obiettivo di migliorare il servizio e l'esperienza di viaggio i monitor sono un nuovo passo in questa direzione continua semplice ma non certo l'ultimo dal prossimo anno altre novità riguarderanno le convalidatrici di bordo la digitalizzazione degli orari alle fermate il sito internet abbiamo molti progetti in piedi e la recente sentenza del consiglio di stato conclude dell'amministratore delegato ci ha dato un ulteriore impulso a incrementare la qualità della nostra offerta e sempre sul tema ferriera vi ricordo che domani ci sarà l'incontro al Mise al Ministero dello Sviluppo Economico proprio sul tema ferriera Ministero tra l'altro che è passato nelle mani del Triestino 5 Stelle Stefano Patonelli naturalmente gli aggiornamenti nel corso del nostro telegiornale di domani e domani ci sarà anche lo sciopero delle autoscuole in tutta Italia a causa dell'introduzione dell'IVA al 22% sulle patenti una vera e propria stangata a sentire naturalmente i responsabili di settore sentiamo IVA al 22% anche per le autoscuole con effetto retroattivo negli ultimi anni danno e beffa serviti tutti in un piatto hanno contribuito alla mobilitazione da parte delle autoscuole di tutta Italia portandole allo sciopero di domani quando verranno abbassate le serrande e sospese le lezioni teoriche e pratiche a Trieste sono 16 le autoscuole totali praticamente tutte aderiranno all'iniziativa che in ambito locale si limiterà a sospendere le attività salvaguardando però gli esami di guida a Roma poi le delegazioni di categoria daranno vita a uno sciopero generale manifestando in piazza domani le associazioni di categoria con Farca e Unasca hanno fissato una manifestazione nazionale a Roma contro l'aumento dell'IVA l'applicazione dell'IVA sulle prestazioni didattiche per il conseguimento delle patenti su tutto il territorio nazionale quindi Trieste per prima i colleghi che non riescono ad andare a Roma chiuderanno per solidarietà e tutela dei propri allievi le proprie autoscuole la legge italiana e la stessa agenzia delle entrate con numerosi risoluzioni ha sempre affermato che l'attività didattica per il conseguimento patente esente IVA ora con l'ultima risoluzione del 2 settembre non solo ha cambiato idea ma chiede l'IVA dal primo gennaio del 2014 quindi teoricamente tutti i cittadini che hanno fatto la patente dal primo gennaio del 2014 dovrebbero pagare l'IVA un aspetto talvolta sottovalutato rimarca il coordinatore regionale con Farca e il ruolo all'interno della società che negli anni ha svolto proprio l'autoscuola non dimentichiamo che l'esenzione IVA è nata proprio per favorire un'alfabetizzazione dei giovani e per ridurre gli incidenti stradali e questo l'Agenzia delle Entrate non ne tiene conto e lo mette da parte Torniamo a parlare del futuro di Piazza Sant'Antonio a Trieste oggi il Comune ha reso noti i risultati della piattaforma partecipativa a cui appunto hanno contribuito con idee i cittadini che a quanto pare la vogliono più verde e più vivibile noi ci vediamo dopo la pubblicità la gente chiede di riqualificare quella piazza di avere degli spazi per viverla chiede di mantenere la fontana e il verde e come ha detto il sindaco chiede sostanzialmente che sia lasciata così evidentemente fatta nuova evidentemente più fruibile così l'assessore comunale al patrimonio Lorenzo Giorgi sintetizza i risultati della piattaforma partecipativa attraverso la quale dall'8 luglio all'8 agosto il Comune ha sottoposto ai triestini i progetti relativi alla riqualificazione di piazza Sant'Antonio non si è trattato è stato ribadito stamani durante una conferenza stampa di un referendum sui quattro progetti proposti ai cittadini sulla base di essi è stato consentito di esprimere un proprio parere generale sia dal punto di vista delle partecipazioni online che da quelle fatte con l'ufficio mobile con cui abbiamo girato tutti i rioni di Trieste questa estate per incontrare i cittadini e chiedergli l'opinione sulla nuova piazza Sant'Antonio il mantenimento della fontana il mantenimento del verde con le sue essenze particolari sono stati il top e quindi l'amministrazione volendo avere questa famosa casa di vetro quindi la trasparenza per avere una nuova città e per evitare di avere brutture come piazza Vittorio Veneto o piazza Goldoni che non piace ai triestini non piace francamente a nessuno ha deciso di sentire i cittadini per progettare assieme questi nuovi scorci di città ora il materiale raccolto grazie ai contributi totali un centinaio sarà restituito all'architetto Maurizio Pradaschia per arrivare ad un unico progetto che sintetizzi il pensiero dei cittadini seguendo come è stato ricordato oggi l'iter di procedura per arrivare al progetto di fattibilità dobbiamo appaltare di iniziare credo prima del 2021 queste sono le tempistiche che ci ha dato il sindaco ben trovati ben trovati al telegiornale di Telequattro torniamo alla politica quella comunale nasce in consiglio comunale il gruppo progetto FVG ad animarlo Roberto De Gioia che ha ufficializzato una decisione che da tempo era nell'aria sentiamo chi l'ha detto che in questi giorni soltanto Montecitorio e Palazzo Madama debbano provare il brivido della nascita di nuovi gruppi parlamentari si parva l'ICET anche Trieste ne tiene a battesimo 1 e non deve aspettare Leopolde o altro per annunciarlo scherzi a parte stamani il consigliere comunale Roberto De Gioia ha ufficializzato la costituzione del gruppo di progetto FVG all'interno del consiglio comunale non è una sorpresa già che da tempo si sapeva che il politico di lungo corso si stava avvicinando al movimento che fa capo all'assessore regionale all'attività produttive Sergio Bini ci sono state proposte idee iniziative bisognava in qualche modo concretizzarle non meglio che in consiglio comunale soprattutto in questo momento di carattere politico in cui la politica è un po' evanescente in cui sono di moda le liste civiche i patti civici e tutte queste cose qua ma d'altra parte mi sembra opportuno portare in consiglio comunale le istanze dei cittadini perché il progetto FVG è un soggetto inclusivo di valori politici diversi ma anche di persone diverse soprattutto di persone che hanno voglia di dare un contributo per costruire una nuova società la mossa di De Gioia arriva non a caso alla giusta distanza dalle elezioni amministrative e in un momento in cui lo stesso De Gioia lo sottolinea Trieste si appresta ad affrontare una serie di opportunità sotto certi aspetti uniche mancano un anno e tre quarti delle prossime elezioni quindi questo è il momento per concretizzare perché tutto quello che sta succedendo oggi con il porto con il porto vecchio con il turismo con i cantieri aperti con la feriera stessa sono cose che capitalizziamo in questo periodo dopodiché chi lo sa cosa succederà ma in questo momento mi sembra opportuno capitalizzare questo e rendere produttivo nell'interesse della città ora o mai più in pratica Resta un dato De Gioia sarà in maggioranza ricostruendo anche a Palazzo Sipario la compagine politica che sostiene la giunta regionale oppure resterà all'opposizione la risposta non preclude ad alcuna possibilità anche se par di capire è più probabile De Gioia sceglia la prima alternativa Essere in maggioranza bisogna entrare in maggioranza in modo organico quindi questo si vedrà e questo lo decideranno ovviamente i dirigenti del progetto FWG a livello regionale e questo si vedrà in futuro al momento io faccio parte attiva a sostegno dell'iniziativa soprattutto del sindaco in questo momento ha la bacchetta in mano è chiaro che se saranno le cose giuste sarò della parte giusta e se saranno sbagliate dirò che sono sbagliate in mondo autonomo e libero i cartografi i cartografi e vedutisti Giacomo e Antonio Baseggio sono i protagonisti del primo appuntamento della serie Focus On che nei mesi a venire animeranno il castello di Miramare è l'inizio di un nuovo modo di raccontare di una serie di iniziative che saranno cicliche quindi ogni quattro mesi noi prenderemo alcuni oggetti oppure un oggetto e faremo su di esso un focus l'appuntamento Miramare in questi mesi fino a dicembre è per ammirare l'esposizione dal titolo Il porto di Istifan in una carta nautica del Settecento è il primo appuntamento della serie Focus On un nuovo modo di osservare comprendere e narrare la storia del museo e della sua collezione a partire dagli oggetti questa esposizione è quindi dedicata alla mappa fatta con tempera su carta che raffigura il porto di Istifan antica località sulle coste del Mar Nero opera dei viaggiatori e cartografi e vedutisti Giacomo e Antonio Baseggio infatti questa iniziativa si chiama Focus On su che cosa quale sarà il prossimo oggetto già abbiamo detto alcune indiscrezioni però dovete aspettarvi che ci sia sempre qualcosa di nuovo ma qual è l'idea che c'è dietro questo progetto è proprio quella di cominciare a riraccontare il castello e la sua storia attraverso i suoi oggetti vale la pena di cercarli di capire la loro storia e anche il loro valore estetico artistico storico ed è quello che noi faremo attraverso questa serie di Focus On ma non è tutto perché in parallelo ci sono anche i lavori nel giardino di Miramare noi stiamo lavorando su diversi fronti e uno naturalmente è quello del parco il lavoro di ricostruzione filologica e di studio al fine di ricostruire qual era il vero parco il vero parterre di Massimiliano va in parallelo con il lavoro sugli oggetti quindi i mutamenti che voi vedrete adesso che si cominciano già a vedere per esempio nel parterre vanno in parallelo con la ricerca perché una delle missioni di un museo è proprio la ricerca sulla sua storia e sui suoi oggetti e su tutto quello che sono le sue pertinenze e così non potrete più dire che non tornate al castello perché non c'è niente di nuovo da vedere una piazza negata a tutti e quindi due manifestazioni distinte lontane l'una dall'altra con i primi che delineano divisioni i secondi che parlano di realtà unite stiamo parlando delle anime indipendentiste della città di Trieste che domenica 15 hanno manifestato l'anniversario del trattato di pace del 1947 dietro la manifestazione dei gruppi indipendentisti e al brindisi con tanto di mostra fotografica nella sede del movimento Trieste Libera c'è un episodio che ha a che fare con autorizzazioni chieste e non concesse a entrambe le realtà e che riguardano piazza della borsa questo perché tutti e due gli organizzatori dei distinti eventi hanno fatto richiesta per l'utilizzo della piazza richiesta tra l'altro inoltrata lo stesso giorno ma se la sono vista negata dalla questura per motivi di ordine pubblico noi avevamo richiesto di poter svolgere come anche l'anno scorso la nostra iniziativa sia in piazza e ovviamente in sede non abbiamo nessun motivo di dover chiedere autorizzazioni ma abbiamo avuto delle prescrizioni da parte della questura e le abbiamo dovute rispettare quindi per evitare che ci fossero problemi nella piazza ci è stato indicato che non potevamo svolgere l'iniziativa prevista in piazza l'azione che portiamo avanti è più importante di iniziative che si trasformano poi solamente in baccani in strada e che non portano a nessun risultato concreto si aprono dunque scenari di possibili condizionale d'obbligo dispetti fra le parti risolti poi con le iniziative che si sono svolte ognuna per i fatti propri come rimarca il Movimento Trieste Libera che traccia ancora una volta una netta linea di demarcazione con gli altri gruppi cittadini la manifestazione degli altri francamente non ci interessava e non ci riguardava e si trattava si è trattato di festeggiamenti che hanno fatto altri gruppi che però come ho detto sono quelli che poi partecipano alle elezioni italiane quindi la separazione in questo caso è netta totale noi come Movimento Trieste Libera mai abbiamo detto che avremmo fatto alleanze con chiunque non riconoscesse pienamente i diritti dei nostri cittadini e del nostro Stato Allora ancora una notizia in Friuli Venezia Giulia debutta il track del gusto targato Despar sarà in Friuli Venezia Giulia da metà settembre fino a fine novembre a Trieste arriverà in piazza dell'Unità d'Italia in occasione della 51esima edizione della Barcolana e sarà poi a Udine per l'evento IMProsit la tribù del gusto on tour una bellissima occasione per noi di Despar di dare eco ai tesori gastronomici del Friuli Venezia Giulia spiega Fabio Donà direttore marketing di Despar e ancora la Triestina in un momento difficile per la squadra di Pavanel con l'allenatore stesso messo a rischio da alcune testate giornalistiche al momento la società lo ha assolutamente confermato sulla panchina della Triestina naturalmente però domenica c'è una partita importantissima a Verona della situazione e anche della necessità di cambiare qualcosina ha parlato ieri sera al caffè dello sport il centrocampista peraltro triestino Federico Maracchi vi lascio a questo estratto noi ci vediamo domani con il nostro telegiornale non abbiamo giocato alla grande abbiamo comunque messo dentro il cuore il coraggio e siamo riusciti a racciuffare una partita che sembrava persa proprio clamorosamente peccato perché un punto poteva essere una cosa positiva invece stiamo analizzando una partita persa tra due dove c'è stato un passo indietro rispetto all'altra partita di Piacenza dove per 70 minuti abbiamo dominato invece qua abbiamo fatto più fatica sette gol subiti in quattro partite sono tanti per una squadra che vuole puntare a vincere il campionato dobbiamo trovare degli equilibri che abbiamo smarrito degli equilibri diversi abbiamo dei giocatori diversi e quindi ci deve essere un'amalgama che adesso come adesso non abbiamo ancora trovato però ecco quello che mi sento di dire che sì dobbiamo trovare un equilibrio diverso però è la quarta giornata certo c'è tanto c'è tutto il tempo per recuperare già insomma arriva questa partita importante a Verona che mette a disposizione tre punti insomma che speriamo possano essere centrati a verona a verona a verona Autore dei sovrapposti